Esami del sangue fatti in una struttura privata, ma refertati e analizzati dal laboratorio dell'ospedale Santo Stefano. Gli studi medici Galilei hanno inaugurato un nuovo modello di collaborazione e sinergia fra privato e pubblico, tenuto a battesimo dall'assessore regionale Stefania Saccardi. Quindi un sistema nel quale c'è una vera integrazione, non solo, c'è un'integrazione anche di tipo informatico, perché i referti vanno direttamente nella struttura privata e direttamente anche nel fascicolo sanitario della persona. Quindi il privato che fa un esame va direttamente nel fascicolo sanitario. La struttura di via Terracini, dietro Piazza del Mercato Nuovo, offre oltre ai prelievi del sangue anche prestazioni mediche specialistiche, dalla gopontura all'ecodopler, dalle visite oculistiche a quelle di ostetricia. Pensiamo, è breve, ad avere diversi specialisti. Ad oggi possiamo dire che siamo intorno a una quindicina di specialisti che vengono qua. Per gli esami, che vengono a farsi gli esami del sangue, daremo la colazione gratuita al bar Las Vegas che è qui vicino. Intanto è stata presentata alla Società della Salute la richiesta di accreditare la struttura presso l'ASL. È un ulteriore esempio, se mai ce ne fosse ancora bisogno in questa città, in questa provincia, della collaborazione sempre stretta che c'è tra la sanità pubblica e la sanità privata, per rendere un servizio, diciamo, migliore alla cittadinanza. Alcuni servizi del laboratorio vengono gestiti da IAMA, costola sanitaria del consorzio Astir. Ha come obiettivo quello di dare servizi ai cittadini, quindi è ovvio che cerchi di implementare per quanto possibile i servizi e anche andare incontro alla comunità, aprendo, diciamo, postazioni che siano più vicino possibile al territorio.